Giotto, Dante, Leonardo, Verdi e Federico Fellini in campagna elettorale, le 5 star della cultura italiana schierate nello studio di Sky come i candidati alle primarie del PD lo scorso novembre. Ma niente paura, non è l'ennesimo confronto politico in TV, sono le primarie della cultura, l'ultima idea dei giovani del Fondo Ambiente Italiano. La consultazione popolare online, la prima nella storia del nostro paese, vuole promuovere e valorizzare soluzioni concrete nell'ambito della cultura, del paesaggio e dell'ambiente. Dallo sviluppo del turismo e del commercio a chilometro zero, fino alle norme che regolano lo sfruttamento del suolo, passando per la salvaguardia dei centri storici, tutte tematiche che raramente trovano spazio nei programmi elettorali. Collegandosi al sito primariedellacultura.it, fino al 28 gennaio si possono esprimere tre preferenze fra i 15 temi proposti e integrare il voto con commenti e suggerimenti, grazie all'interazione dei social network Facebook e Twitter. In soli due giorni, già in 20.000 hanno votato e per ora, in vetta alla classifica, con il 17% dei voti, c'è una richiesta precisa, aumentare i fondi pubblici e la cultura. Dalle preferenze raccolte verrà stilata una classifica dei temi più votati, da presentare ai candidati alle ormai eminenti elezioni politiche. A loro spetterà se sostenerli pubblicamente. Se con l'attuale Porcellum non si possono scegliere deputati e senatori, grazie all'iniziativa del FAI, i cittadini italiani potranno almeno esprimere un parere sulle idee da far sostenere a chi siederà presto in Parlamento. Ambiente, paesaggio e cultura sono raramente fra le priorità dei politici, ma dopo tutto un click non costa nulla.